Musica Questa è la nuova puntata della nuova serie di UT3 Allora voglio cimentarmi in questa serie Perché me ne hanno parlato bene di questo gioco Allora, cioè, proviamolo E quindi, boh Guardatele Divertetevi Mettete mi piace Se vi volete iscrivetevi Ma io non costringo Ciao Io amo i Final Fantasy Ce l'ho dal primo fino al Al tredicesimo Però Io posso dire che Insomma Io pensavo che Il tredicesimo fosse un pochettino meglio Però secondo me Il 10 rimane il migliore Allora Andiamo avanti Andiamo avanti Ok Perfetto Ecco qua La nostra nuova avventura Campagna Nuova campagna Error Ok Siamo arrivati troppo tardi No, non può essere Non ti scomodare con questo Non c'è il modo che possa combattere di nuovo Fallo La ringrazio Bene dai Uggi Ehi Sei ancora arrabbiato No Di più non dovevi tornare Proprio così Vola via Lasciando morire tuo fratello Ho giurato che avrei Badato a te Da morto Veramente un bel piano Simpato Va bene Hai vinto tu Così lavoriamo Per Andiamo avanti Simpatica mia sorella Almeno che lo chiedi sia Mio sorella Andiamo avanti A vedere il gioco Se c'è Dotti una mossa fratellone Nella sala E oltre la porta O sei ancora stanco Oh Ok 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 Mira Ok 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 No Ah sì Ok Pensavo avremo iniziato con un obiettivo fisico Prendi il tuo mattello a impatto E distruggi quel drone metàlico Unità necessita riparazione Ok Sembra che tu sia passato Adesso riprendi il fucile shock E spara ai comandi della morte Ti darò un vantaggio Ma farai meglio a trovarmi Prima che io trovi Sorevina Vieni qua Allora È stato fatto È stato fatto Ok 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 Mi sento tanto Dio in questo momento Wow Ok 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 Restano cinque uccisioni Bello Grande protetto Un prosciutto che saltella Ok Intanto durante Voglio profittare per questa Questo momento di pausa Per ringraziare il mio amico Teddy Per avermi Fatto almeno un accenno di sigla Per questo video Mi sa che Teddy mi porta a sigla Cerca di non essere Noi Scusate Dio in questo momento Mi sento tanto Allora Vieni qua Non si Ok Ok Armored Perfetto Perfetto Non c'è Mi sento sparare a vuoto Ma che cazzo Sorellina Sorellina Vieni qua Ho bisogno di altro riposo E stai giù Arrivare Arriva il cucilone Ok Arriva il cucilone Vieni qua Sì, ragazza. Sì, ragazza. Sì, ragazza. Un po' di vita. Ok, va bene così. Vieni qua. Oh sorella. Oh sorella, vieni qua. Oh sorella. Dove sei? Dove sei? Quando vuoi, fratello. Vita. Ok, ancora vita. Ci sono un giovincello con tutta questa vita. Ok. Oh vita. Oh vita. Ok. Oh bella bambina, dove sei? Ok. Perfetto. Perfetto. No. Dove sei? Ma che cazzo? Vieni qua. Ho fatto il Clark. Vieni qua. Ah ha ha. Sì. Ma sono bellissimo Cioè tra poco ho l'arma più grande di me Però non importa Però sono bellissimo Due Ascoltiamo il video Bell' ufficio Grazie Bel posticino vero? Mi chiamo Marco Ricciare Izanagi mi ha assunto per gestire le operazioni speciali Questo deve costare un occhio Eh vabbè Sembra che tu conosca la mia reputazione E chi non la conosce hai trionfato nella maggior parte dei tornei sempre Sei il capo dei Thundercrash Conosciuto anche come Thundercash Va bene va bene ho capito Il che fa di te un pluridecorato civile Ho gestito Thundercash nelle condizioni peggiori che i liandri potessero mai sognarsi Vulcani pieni di magma Gravità zero Alieni completamente pazzi Di tutto Questa schifezza qui è nulla a confronto Ecco Quindi questo farebbe di te un generale No ma i rigeneratori hanno cambiato completamente la guerra E nessuno sa che i rigeneratori sono come veri campioni di un torneo Giusto Ma cosa vuoi da me? I boss di Izanagi vogliono attacchi di precisione chirurgica per vincere questa guerra E loro stanno attenti ai costi Esatto Crisi Le squadre piccole come la tua sanno come lavorare assieme Un vero gioiellino Eh sì Un vero gioiellino usa e gentà Thundercrash Vedila come vuoi Ma ora la tua squadra è con le forze speciali Tan 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 Quindi i Ronin hanno un capo vero? Dannazione amico non stai mai zitto Stiamo per andare in guerra E io ho bisogno di averti nella mia squadra I Negris sono la vera minaccia Non gli Axon Loro hanno iniziato questa storia volendo il nostro Taridium E noi abbiamo bisogno della loro tecnologia Se vogliamo sconfiggere i Negris Saremo pronti Ascolta Ho saputo di quanto è accaduto alla tua colonia So che vuoi spargere sangue Questo lavoro ti farà vendicare in fretta Fidati di me Ok Per oggi è tutto Vi ringrazio per l'attenzione Ci vediamo alla seconda missione di UT3 Ciao